Buongiorno, buon sabato mattina, buon inizio di giornata. Noi siamo qui come ogni mattina alle 7.30 per Occhio e Giornali per mostrarvi i titoli principali dei quotidiani in edizione locale, il resto del Carlino e Corriere Adriatico, non prima però di avere come sempre espletato la formalità dell'almanaco del giorno e poi delle previsioni del tempo. Allora vediamo per oggi, sabato 7 ottobre, la Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria del Rosario, il sole è sorto alle 7.12 e tramonterà alle 18.39, giornate sempre più corte e insomma vediamo quindi com'è l'evoluzione del tempo per questo fine settimana. Partiamo dalle previsioni per oggi di sabato, appunto vedete variabilità un po' su tutta la regione tranne che sulla costa dove c'è cielo sereno e poco lunovoloso, locali addensamenti cumuliformi, in particolare nella prima parte della giornata però le precipitazioni non sono presenti, insomma temperature anche con i valori in diminuzione. Vediamo la giornata di domani, domenica, ritorniamo sulla posizione di domenica, eccola qua, allora domenica il cielo è poco, parzialmente nuvoloso e transito di lievi e stratificazioni cumuliformi, vedete la cartina è ben chiara, cielo coperto su un po' tutta la regione, temperature minime in ulteriore lieve diminuzione però le massime sono un po' in ripresa quindi insomma nelle ore centrali della giornata farà un po' più caldo rispetto alla mattinata. Vediamo l'inizio della settimana entrante quindi lunedì 9, il cielo è parzialmente sereno, poco nuvoloso però anche qui addensamenti a ridosso dei settori interni però per il resto della giornata ci sarà appunto una diminuzione dell'intensità nuvolosa, le precipitazioni al pomeriggio non si escludono, locali piovaschi o brevi rovesci, le temperature minime ancora in aumento e però le massime senza variazioni di rilievo. Quindi insomma fine settimana all'insegna della variabilità però insomma la pioggia non dovrebbe essere presente, non dovrebbe guastare le varie iniziative che sono sparse per la provincia soprattutto in ambito di Tartufo. Quindi vediamo le aperture dei due quotidiani il resto del Carlino e Corriere Adriatico, vi faccio vedere subito quella del resto del Carlino le aperture sono più o meno uguali, la notizia insomma in posizione centrale è quella che riguarda il campione di nuoto Magnini, indagato per appunto dalla procura nazionale antidoping per i rapporti con il nutrizionista Porcellini, nei guai anche un altro nuotatore Santucci. Poi in testa di pagina la vicenda che riguarda i due carabinieri di Fossombrone che sono già stati trasferiti ma ora rischiano il posto dopo la confessione sui furti, disperazione, pianti e lacrime davanti al PM per i due carabinieri. Alcune vittime sarebbero ancora da identificare mentre nella cittadina appunto forse pronese c'è sconcerto per questa vicenda. E poi si parla anche di lavoro, di infortuni sul lavoro e un'annata nera con 14 vittime solo in 8 mesi. Ancora migranti e rapporti con la cittadinanza. A pagina 8 si ritorna a parlare di Borgo Santa Maria. L'apertura del Corriere Adriatico, anche qui in posizione centrale Magnini e le indagini della procura antidoping dopo l'inchiesta penale sui traffici del medico Porcellini. Scatta il blitz al porto, andiamo a Fano con una notizia in taglio alto. Qui i lavoratori in nero trovati e anche due clandestini. Controllo interforze a Fano. Un blitz vero e proprio che ha portato all'identificazione appunto anche di due clandestini che operavano come operatori nel porto. Protesta si moltiplica, non vogliamo i migranti. Assemblea infuocata a Borgo Santa Maria. Nelle pagine appunto del resto del Carlino, adesso ve le faccio vedere tutte e due, la pagina 2, la pagina 3, eccole qui. Sono le due pagine del Carlino dedicate alla vicenda di Magnini e quindi sostanze proibite di Porcellini. A giudizio il 7 novembre il nutrizionista e poi Filippo Magnini dice spero mi ascoltino subito così chiudiamo la vicenda. Lui è sicuro. Il caso è già stato smontato, dice mi hanno pedinato, intercettato. I giudici penali hanno già chiarito che non ho usato sostanze proibite. La vicenda dei due carabinieri in divisa che avrebbero sottratto con tanti alle persone che li fermavano per i controlli, che sbaglio, crisi di pianto e disperazione dei due carabinieri però sono stati già trasferiti da Fossombrone dove c'è sconcerto. Vedete qui il procuratore di Urbino che ha condotto le indagini. Abbiamo chiuso questa indagine dopo aver trovato i riscontri alle accuse mosse ai due militari dai denunciati, da coloro che erano stati privati del loro contante dai portafogli. La vicenda dei migranti e delle assemblee a Borgo Santa Maria. Andiamo, facciamo vedere il titolo, a Borgo i migranti sono troppi, la protesta dei cittadini, integrazione così impossibile, dovete ridurli. Il confronto con le cooperative che gestiscono appunto il flusso dei migranti è stato fallimentare. Scontro sui numeri dovrebbero essere 15, invece ce ne abbiamo oltre 100. Vogliamo risposte chiare e riscontri appunto anche di chi vive male la convivenza con i richiedenti asilo, appunto i racconti di queste persone che dicono no a decisioni prese però senza consultare i cittadini e qui ci sono le testimonianze di due abitanti appunto di Borgo Santa Maria. Ancora nelle pagine che riguardano le vicende provinciali, anche Fano e Valcesano, si parla di centri per disabili. A focalizzare un po' l'attenzione della politica è il consigliere regionale Talè che dice salute per disabili, lasciati senza risposte, la regione deve rivedere le sue scelte e lui deposita una mozione impossibile operare così. Le strutture sono queste, ogni struttura, sono 19 in provincia, ha il rimborso pieno solo per 10 utenti, ma dentro ce ne sono molti di più. Andiamo nelle pagine del Corriere Adriatico che parlano di Pesaro e provincia, c'è Cronaca, Setaccio senza sosta, bar nel Mirino, la polizia e i cani antidroga di Ancona in azione notturna a Vallefoglia, trovati Ashish e nel pomeriggio anche Blitz al Miralfiore con un pastore tedesco, quindi lotta senza confine per lo spaccio. E anche qui nel Corriere Adriatico, nella pagina che riguarda Pesaro e l'interno, si parla dei migranti a Borgo Santa Maria, via i migranti sono troppi, si è rischiato anche lo scontro fisico, titola il Corriere Adriatico. Anche il Corriere Adriatico, nelle pagine che riguardano le Marche, più precisamente anche la provincia di Pesaro, fa un focus sulla vicenda Magnini, indagato per doping, ci prova la procura sportiva, dopo i magistrati di Pesaro che hanno dichiarato che lui era estraneo e gli altri sono stati trasferiti a Roma. Andiamo nelle pagine di Fano, iniziamo da quelle del resto del Carlino, naturalmente il mainstream di queste notizie è il Carnevale e lo scherzo è il Carnevale che è servito. Il divertimento costerà 10 euro, l'ente è deciso, ma Bacchiocchi, il capogruppo del PD, dice spero che non sia un boomerang e questo è l'augurio che ci facciamo tutti, ma bisognerà appunto vedere quella che sarà la risposta del pubblico a questa nuova modalità di accesso. polemiche bipartisan, Mirzola di Forza Italia dice che convocheremo la commissione di garanzia per analizzare i bilanci e vedere i conti della carnevalesca, ma tra i banchi di scuola della Nuti si starà più sicuri, una volta terminati i lavori di adeguamento sismico, l'assessore ai lavori pubblici Cristian Fanesi che vedete qui insieme al direttore dei lavori, dice la Nuti quando sarà finito il cantiere sarà una scuola come nuova e quindi naturalmente ci si metterà tutti più con l'animo in pace su questo aspetto almeno. Lavori antisismici, gli alunni fianco a fianco con gli operai, ma vengono naturalmente spostati man mano che i lavori avanzano, quindi c'è una grande collaborazione tra corpo d'ogente, genitori e operai, un cantiere che noi abbiamo visitato anche ieri dove c'è grande fermento ma grande professionalità. La pagina di Fano del Corriere Adriatico parla del blitz che c'è stato al porto con una ventina di uomini tra capitaneria, ispettorato del lavoro e polizia e uomini del commissariato per scovare magagne nell'ambito del lavoro nero e sono stati trovati 13 lavoratori completamente sconosciuti agli organi preposti, quindi controllo del commissariato. Solo tre addetti sono stati trovati in regola, elevate sanzioni per 40 mila euro e 5 armatori hanno avuto la sospensiva dell'attività, trovati anche due clandestini, uno era del Sri Lanka mi sembra e l'altro era della Tunisia, proprio per i quali è stato disposto il foglio, sono partite le pratiche per l'allontanamento dal suolo italiano. E anche il Corriere Adriatico non può fare a meno di parlare di carnevale, naturalmente lo scherzo di carnevale eccolo qua, ora a Fano si paga 10 euro il biglietto intero, 5 il ridotto per entrare alla sfilata dei carri allegorici. L'ente annuncia la decisione, giusto che tutti contribuiscono a una kermesse migliore. Questo è il pensiero di Maria Flora Gianmarioli che vedete qui nel riquadro all'interno della carnevalesca, questo lo ha dichiarato appunto anche a Fano TV ieri nella nostra intervista. Il cantiere non ostacola la scuola, abbiamo visto prima appunto il cantiere della Nuti, eccoli qua il direttore dei lavori, i sindaci e la ditta, una ditta specializzata appunto in queste opere. Ancora purtroppo registriamo vandali e ladri negli impianti sportivi, è toccato alla Val Metauro, portano via anche un presidio importantissimo, un defibrillatore che per legge deve stare su tutti gli impianti sportivi, devastate anche gli armadetti delle divise e portati via i palloni. L'azione si è svolta, l'azione dei ladri di notte, il defibrillatore al di là di tutto, delle poche centinaia di danni di migliaia di euro è forse la cosa più grave, insomma perché un impianto sportivo non può effettuare attività in campo senza questo presidio sanitario importantissimo. La pagina di Urbino del resto del Carlino parla a Pian di Severo un quartiere dimenticato, buche, erbacce e degrado e un tombino rotto da un anno. Mucci del PD denuncia, vedete qui nella foto questo tombino e le sue condizioni è transennato e evidenziato, però chiaramente è un'insidia sicuramente per chi magari non è così attento. Invece il Corriere Adriatico sulla pagina di Urbino parla della manifestazione che si tiene in questo fine settimana, che parla di biologico e benessere olistico e medicine alternative e quindi Biosalus torna e apre le sue porte, benessere e natura per tutti, parte oggi appunto l'iniziativa, l'attesa iniziativa, il paese ospite di questa edizione, c'è un paese ospite per ogni edizione, quest'anno è il Peru e quindi tantissima gente affollerà la piazza e i locali adibiti appunto per la mostra. Marijuana, poi c'è della cronaca, ha preso un trentottenne che aveva nell'orto dodici piante alte quasi due metri, la marijuana ha dichiarato lui le uso per curarmi il cancro e poi qui di spalla, lo vedete qui nella foto, il comandante Alfa, il comandante Alfa è colui che ha praticamente formato i GIS, è la punta di diamante dei GIS dei carabinieri e le forze speciali appunto dell'arma, eroe mascherato e il comandante Alfa racconta la sua vita sotto copertura, lo organizza questo incontro l'associazione Lions Club di Urbino. L'ultima pagina che vi faccio vedere, la penultima anzi, che vi faccio vedere è quella che parla dell'enorme masso di 10 tonnellate che minaccia due abitazioni in centro a Cantiano, si tratta naturalmente queste due abitazioni di seconde, abitazioni per le vacanze, comunque l'allarme è stato lanciato perché chiaramente non si sa mai come va a finire in questi casi. Senicalia, ultima pagina della rassegna stampa di questa settimana, si parla di Ghiaia e di Porto che necessita di pulizia, anche lì hanno più o meno gli stessi i nostri problemi, la polizia è un rebus, ora la regione bacchetta, anche il sindaco Mangialardi chiama in causa l'ente che risponde, l'ordinanza è viziata e deve provvedere, questa è la risposta dell'ente al sindaco Mangialardi. Bene, questa era l'ultima pagina, grazie per essere stati con noi questa mattina, per occhio ai giornali che naturalmente torna lunedì mattina alle 7.30 puntualmente per mostrarvi i lanci, i titoli principali e le notizie che troverete poi nei giornali una volta che li comprerete in edicola. Bene, grazie, buona fine settimana a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.